Il restauro, un ambito enorme e dalle innumerevoli possibilità di applicazione, in un paese come il nostro, ricco di un patrimonio storico, artistico e architettonico pressoché illimitato. Amplissimo è anche il campo della tecnologia che viene utilizzata per il restauro, un settore in continua evoluzione che ha conosciuto negli ultimi anni un'innovazione continua. Proprio le esperienze pratiche di applicazione delle nuove tecnologie di restauro sono state al centro di una giornata di studio e di confronto alla sala consigliare del municipio di Rosà, un'iniziativa nata dall'ente di formazione IRIGEM con il patrocinio del comune di Rosà alla quale hanno partecipato docenti universitari, architetti, ingegneri ed esperti in tecniche di restauro provenienti anche da fuori regione. Ad aprire i lavori l'architetto Ranieri Zandarin dell'Ordine degli Architetti della provincia di Padova che ha illustrato l'innovazione tecnologica avvenuta in quest'ambito. Tecnologie che si sono sviluppate con nuove e diverse applicazioni. L'architetto e docente dell'IRIGEM Giancarlo Calcagno, tra i primi ad aver sperimentato l'uso di laser per il restauro, ha analizzato tra l'altro l'intervento di recupero dell'affresco del XVIII secolo che si trova a Rosà nel sottoportico che da Piazza della Serenissima conduce alla biblioteca comunale. Nutrita la rappresentanza del mondo accademico, con gli interventi dei professori Elisabetta Zendri e Guido Biscontin, docenti all'Università Ca' Foscari di Venezia, e dell'ingegnere Emiliano De Biasi dell'Università di Ingegneria Meccanica di Trento. Tra gli altri relatori, Renzo Salimbeni del CNR Firenze, Guido Driussi di Arcadia Ricerche, l'ingegnere Gabriele Marchini, tecnologo e libero professionista, e Giovanni Marcadella, direttore dell'Archivio di Stato di Vicenza e Bassano. Interventi che hanno affrontato diverse tematiche, dalle nuove tecnologie offerte dai sistemi laser ai materiali compositi di nuova generazione, utili al consolidamento di murature storiche, passando alle sperimentazioni di laboratorio a quelle di cantiere. Un ambito, quello del restauro, che promette di ampliarsi sia come tecnologie che come opportunità di studio e di lavoro anche nei prossimi anni. Proprio nel corso del convegno, l'Irigem ha annunciato l'apertura delle iscrizioni per un corso gratuito di restauro, dove l'insegnamento di queste nuove tecnologie, soprattutto la pulizia attraverso l'utilizzo del laser e di altre moderni attrezzature, sarà parte integrante dell'insegnamento. Ai lavori hanno partecipato anche l'assessore regionale Emanuela Lanzarin e il sindaco di Rosà, Paolo Bordignon.